Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. È passato una forte linea di instabilità proprio nella giornata di venerdì che ha portato grandine in gran parte della Bergamasca. Ecco invece nelle prossime ore l'anticiclone dell'Azzorre supportato dall'anticiclone subtropicale proveniente direttamente dall'Africa determinerà un forte incremento delle temperature. Infatti abbiamo indicato questo anticiclone che spingerà queste masse d'aria di origine subtropicali proprio in direzione dell'Italia. Abbiamo indicato 38-40 gradi addirittura sulla Sardegna, 35 gradi sulla pianura padana, 32-33 gradi anche a Clusone e fino a 35 gradi anche nella città di Bergamo. Ecco come andrà la prossima settimana? È vero, avremo queste temperature molto elevate almeno fino a martedì, però attenzione perché da mercoledì giungerà dell'aria più fresca. I nostri modelli matematici vedono quindi una rottura di questo caldo piuttosto intenso, di questa seconda onda di calore che ci interesserà da domani fino a martedì e probabilmente sarà accompagnata da forti temporali nella giornata di mercoledì e giovedì che attraverseranno un po' tutto il nord Italia. Quindi massima attenzione fra mercoledì e giovedì perché questi temporali potranno portare nuovamente anche la Grandine. L'animazione da satellite di oggi vede appunto le perturbazioni ormai confinate sul nord Europa. L'anticiclone di origine azoriana verrà sostituito dall'anticiclone africano. Questo anticiclone africano che occuperà gran parte del Mediterraneo centro-occidentale e quindi questa seconda ondata di calore interesserà un po' tutta l'Italia. Ecco passiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domani in Valle Seriana. Giornata in prevalenza soleggiata, cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso sia sui nostri monti sia nella zona della medio-bassa Valle Seriana e Lago di Iseo. Ecco abbiamo indicato nel pomeriggio l'aumento dell'attività comuniforme che in prossimità dei nostri rilievi orobici potrà determinare qualche scroscio locale ed isolato. Quindi nulla di particolarmente interessante. Nel pomeriggio qualche nube anche nella zona della medio-bassa Valle Seriana e Lago di Iseo ma con assenza di precipitazione. Passiamo quindi all'evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana. Allora, resisterà lunedì e martedì ancora un po' di instabilità, soprattutto al pomeriggio non si esclude qualche isolato scroscio di pioggia. Però attenzione perché le temperature subiranno un sensibile incremento. Abbiamo indicato 30-31 gradi già lunedì nella piana di Clusone, 33-34 gradi addirittura a Bergamo. Zero termico che si porterà a 4000 metri di altitudine. Martedì qualche grado in meno, temperature comprese fra i 18 e i 29 gradi. Però attenzione perché abbiamo detto che arriverà dell'aria fredda proprio nella giornata di mercoledì. Quest'aria fredda che causerà un evento di maltempo con forti temporali e locali grandinate. Giovedì e venerdì tempo piuttosto instabile, a tratti avremo qualche schiarita e qualche piovasco soprattutto nelle ore centrali della giornata con temperature decisamente più gradevoli grazie a questa avvezione di aria fresca che ci interesserà anche nel prossimo weekend quindi con un clima decisamente più gradevole però a tratti instabile con qualche scroscio. Per il prossimo appuntamento con la meteorologia di Antenna 2 vi aspetto qui sabato prossimo.